E' morta ieri sera Agatha Damore Cutuli, mamma della giornalista Maria Grazia Cutuli, inviata del Corriere della Sera, uccise in Afghanistan il 19 novembre 2001 insieme ad altri tre colleghi. La donna di 88 anni si è spenta in una casa di riposo dove era ricoverata. Le sue condizioni di salute da tempo le impedivano di prendere parte alle tante iniziative per ricordare la figlia, a cominciare dal Premio Internazionale di Giornalismo organizzato ogni anno tra Catania e Santa Venerina, dove riposa la salma della giornalista del Corriere. Questa mattina le segui nella Chiesa del Sacro Cuore di Catania.